Ciao a tutti, sono Alberto Vittone, un borsista della Fondazione Cecilia Gilardi. Andiamo a eseguire ora un riscaldamento globale di tutto il corpo, flettendo le ginocchia, mantenendo la posizione fisiologica della schiena, eseguiamo uno squat cercando di mantenere la posizione e lentamente ritornare su. Ripetiamo per 20 volte. È un'iniziativa importante che permette di raccogliere dei fondi in favore delle borse di studio in ambito universitario, artistico e nei mestieri dell'arte. Mi raccomando, iscrivetevi entro mercoledì 23 settembre e noi ci vediamo il 27 settembre al Forte di Fenestrelle alle ore 9. Ciao! Grazie! 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 Grazie!